Il pensiero di Eric Fromm si colloca in una fase di snodo del pensiero del Novecento e attinge a diverse radici per poter poi svilupparsi nel corso delle sue opere. Sicuramente alla base del pensiero di Fromm vi è l'influenza che l'ebraismo ha esercitato nei suoi confronti. Inizialmente Fromm vuole dedicarsi allo studio della religione e attinge soprattutto la cultura ebraica è il tema dell'umanesimo, ma se la cultura ebraica è l'origine, sono le radici di Fromm, le ali che gli permettono poi di sviluppare la sua opera sono sostanzialmente due, la psicoanalisi e la sociologia di orientamento marxista. Rispetto alla psicoanalisi va detto che Fromm inizialmente ha un atteggiamento abbastanza devoto ai confronti di Freud, ne legge assiduamente le prime opere e cerca soprattutto di trovare dei campi di applicazione della nascente psicoanalisi nei diversi fenomeni sociali emergenti in quel periodo storico. È solo successivamente che Fromm si distanzia da Freud da diversi punti di vista. Possiamo dire che a grandi linee vi sono due divergenze di fondo, sia teoriche sia tecniche analitiche. Sul piano teorico Fromm nega l'importanza del complesso di Oedipo come fattore centrale per la formazione e l'identità di un essere umano. Dà molta importanza alla cultura materna e al matriarcato come elemento che, a detta di Fromm, permette la nascita di una società meno alienante e più democratica. Vi è sostanzialmente una presa di distanza nei confronti dell'idea che l'infanzia debba essere una sorta di momento traumatico nel momento della crescita. C'è sostanzialmente il grande distanziamento, lo vedremo meglio più avanti, rispetto all'attrio della libido e soprattutto il rifiuto del dualismo pulsionale, pulsioni di vita e di morte che sono centrali ovviamente nel pensiero freudiano. Fromm verrà accusato e additato da parte di molti psicoanalisti di essersi sempre occultato come analista. Cosa vuol dire? Vuol dire che pur avendo praticato analisi per decenni, di fatto Fromm non ha mai scritto nulla sulla tecnica analitica e quindi possiamo desumere l'atteggiamento di Fromm da altre angolazioni. Sicuramente nel modo con cui Fromm concepisce la pratica clinica è centrale un cambiamento di relazione che c'è tra l'analizzato e l'analizzante. Il modo con cui Fromm concepisce l'analisi è una sorta di rapporto fraterno, di prossimità. Possiamo dire che Fromm prende le distanze dalle pulsioni e pensa all'analisi come una relazione. La relazione che l'essere umano ha con il mondo, con gli altri e quindi anche la relazione che si sviluppa tra l'analista e il suo paziente. Se Fromm dà una grande importanza alla società, questo non accade ovviamente nel pensiero di Freud. Possiamo dire che l'uomo che Freud pensa è un uomo sostanzialmente chiuso. Cosa vuol dire chiuso? Vuol dire che nel suo pensiero l'uomo è sostanzialmente autosufficiente e quindi solo secondariamente si relaziona con gli altri per soddisfare i propri bisogni pulsionali. Mentre invece nel pensiero di Fromm l'essere umano è un essere aperto. Aperto nel senso che fin da subito è sempre e continuamente socializzato. Quindi questo modo di intendere l'essere umano permette ovviamente a Fromm di inserire all'interno del suo pensiero la centralità della società e questa centralità della società verrà poi realizzata soprattutto nel periodo in cui collabora alla scuola di Francoforte.